Finalmente domani, 18 novembre 2021, uscirà anche qui in Italia, qui da noi, il terzo film, il terzo lungometraggio dedicato all'opera di Koei Horikoshim, Hero Academia World Heroes Mission. Personalmente ho avuto modo di vederlo in anteprima ormai già un paio di settimane fa, in occasione del look a Comics and Games, e perciò ho il piacere di darvi il benvenuto nella recensione del film in anteprima per voi. Prima di iniziare però mi raccomando raga, se avete già visto il film, quindi lo siete andati a vedere, siete tornati a vedere questo video, mi raccomando commentate con la vostra opinione. Vi è piaciuto il film? Non vi è piaciuto? Mi raccomando aspetto i vostri commenti, perché secondo me questo è un film che può generare qualche dibattito. Quindi mi raccomando vi aspetto nei commenti, iscrivetevi qualora foste nuovi e lasciate un bel mi piace, ma detto ciò iniziamo subito. E direi di partire in realtà dal titolo e dalla copertina del video. Questo film è stato totalmente deludente? La risposta è ni, né si né no. Diciamo che, ma ne parleremo poi per bene nel corso del video, ci sono stati alcuni elementi all'interno di questa pellicola che hanno letteralmente affossato le potenzialità di quest'ultima. Una pellicola che tra l'altro ha avuto anche un grandissimo impatto sulla quinta stagione, ne abbiamo anche parlato nel video di lunedì, quindi qualora ve lo foste perso andatelo subito a recuperare. Quindi insomma un film che poteva veramente dare di più. Ne parleremo quindi per benino, soprattutto nella sezione dedicata ai punti negativi del film, facendo ovviamente quasi zero spoiler. O comunque formulando le frasi in modo tale che solo chi ha capito il film può capire, quindi tranquilli questa recensione non ha spoiler. Dunque la pellicola, come sapete alla fine se avete visto i trailer, si incentra sulle vicende che accadono diciamo ad Eku, Bakugo e Shoto in primis, oltre che a tutti gli altri compagni di classe e della UA, che in generale sono dunque chiamati a prendere parte a una missione globale internazionale. Missione che ha l'obiettivo dunque di scovare e di sconfiggere una organizzazione criminale terrorista capitanata dal villain del film Flecht Tarn. Non so come si pronuncia, una cosa simile. Questo è dunque ciò che si può evincere dai trailer a cui va aggiunta la presenza degli eroi, dei migliori eroi mondiali, Endor e Oaks in prima linea. Una trama, le qui fondamenta diciamo sono abbastanza semplici, che però viene arricchita da alcuni elementi vincenti. Nonostante la semplicità del presupposto, infatti che dà il via agli eventi di World Heroes Mission, abbiamo qui delle tematiche belle e toste, che danno una nota positiva in più a tutto il lungometraggio. Partiamo quindi dunque col parlare delle cose belle del film. Il film merita comunque sia di essere visto, quindi parliamo delle cose belle cicciose. Il primo punto positivo, il primo punto vincente della pellicola è sicuramente il comparto tecnico. Le host sono perfette e riescono, assieme agli eventi che vediamo a schermo, a farti comunque sia empatizzare con ciò che sta accadendo. Ma Hero Academia e Demon Slayer in questo sono eccezionali, che si parli di film, che si parli di serie televisiva animata. Veramente le host fanno il loro lavorone incredibile. Senza poi parlare delle animazioni che sono tutto sommato diciamo buone per tutto il corso della pellicola, ma che raggiungono dei picchi assurdi nelle scene ovviamente di azione clou. E qui raga hanno introdotto degli espedienti tecnici che io ho amato. Ci sono intere scene realizzate in piano sequenza. Il piano sequenza, per chi non fosse diciamo consono o comunque... come che si dice? Abituato a questi termini sono praticamente riprese senza stacchi. Sono intere scene senza tagli tra una scena e l'altra praticamente. Un esempio può essere l'intero film di 1917, che sembra essere stato girato con un'unica ripresa, una carrellata continua. Ecco, qui in Hero Academia World Heroes Mission abbiamo delle carrellate, dei piano sequenza spettacolari, dove c'è anche un po' di CGI che però è mischiata per benino, quindi non reca danno assolutamente, è veramente omologata, omogenea, boh, avete capito? Ha tutto il resto, quindi veramente, cioè io lì sono impazzito. Anche perché poi con le os, con le scene che accadono, veramente una trovata tecnica pazzesca. Ecco, le scene d'azione sono poi un altro dei punti forti. Un livello di epicità assurdo, tant'è che ad una certa io e il mio amico ci volevamo veramente alzare durante una delle scene finali, proprio applaudire, urlare, saltare, perché veramente si raggiungeva un livello di epicità assurdo. Cioè fidatevi che se ancora non avete visto il film, perché questa alla fine è una recensione in anteprima, pure voi domani, dopodomani, dopodopodomani, perché il film insomma sarà al cinema dal 18 al 21 novembre, vorreste, non lo so, alzarvi, urlare, saltare, perché veramente nelle scene finali accadono robe pazzesche. Spostandoci poi sul piano delle tematiche accenato prima, sicuramente privilegiano quello della fiducia e dell'amicizia, tematiche che comunque in My Hero sono, meno male, sempre state presenti, ma che qui comunque si raggiungono un livello ulteriore, grazie alla presenza di un nuovo personaggio, ovvero Rudy, che è il personaggio che vediamo nella copertina, però appunto nel poster, e anche nei teaser trailer. Ma vi lascio scoprire il resto a voi, perché veramente ha un quirco spettacolare, è un personaggio dal carisma unico, ma lo scoprirete. L'insieme di questi tre, quattro elementi, insomma, ha posto il film, il terzo film di My Hero Academia su un livello di qualità incredibile. Un livello che va sicuramente oltre il primo film, oltre il secondo, oi boh, non saprei, perché il secondo pure è veramente figo come film, mi farete sapere voi nei commenti. Ma passiamo ora ai punti negativi della pellicola. Io personalmente ne ho individuati due, il primo che in realtà sembra quasi più una svista, quindi a livello di trama non incide realmente, non incide realmente con tutta la fine la pellicola, è una cosa che si nota solo se si guarda il film con la lente di ingrandimento, come ho fatto io. Mentre l'altro problema, secondo me, è abbastanza grave, è affossa tutte le potenzialità del film. Come dicevamo all'inizio, ci sono degli elementi che affossano questo film, e il secondo problema che ho individuato, secondo me, pone questo film veramente tra, boh, non lo so, la monotonia dei filmani, me la chiamerei, chiamiamola così. Cioè veramente questo elemento potrebbe porlo anche al di sotto del primo film, per livello proprio di impatto mediatico, chiamiamolo così. Partiamo dunque dal primo problema, che per me è rappresentato, un problema minore, rappresentato dal siero. Noi nella quinta stagione abbiamo avuto un intero episodio filler, incentrato su questo siero potenzia quirk, generato, elaborato, diciamo così, eh, dal villain Flecht Tarn, che per l'appunto era un pericolo globale, di scala globale, perché poteva generare un casino, eccetera. E poi nel film questo elemento è usato letteralmente due o tre volte. Cioè abbiamo avuto quindi un caricamento di hype con questo siero, con questo nemico, eccetera, per poi nel film vedere questo siero veramente essere snobbato, quando invece il suo diverso utilizzo poteva veramente apportare quel qualcosa in più, collegando serie e film. Così non è stato, ma ve l'ho detto, c'è proprio un trovare il pelo nell'uovo, perché praticamente è un elemento singolo, quindi, cioè alla fine è anche sorpassabile, però secondo me andava detto. Il secondo problema, invece, riguarda le vestigia. Vestigia che di fatto sono assenti e la cui assenza crea dei buchi incredibili, per due motivi. La quinta stagione, vi rimando quindi a rivedere il video di lunedì, è stata incredibilmente influenzata dalla crescita, dall'evoluzione del One for All e di Deku, con l'introduzione per l'appunto delle vestigia. Vestigia. Vestigia che quindi ricoprono un ruolo importantissimo e che continueranno a ricoprirlo, ma che nel film non vengono per niente menzionate, nonostante l'utilizzo del Black Whip. Che non è uno spoiler, lo vediamo dal teaser trailer. Quindi noi in questo film non abbiamo traccia delle vestigia, eppure questo fatto mi ha sorpreso, perché, cioè, effettivamente crea dei buchi incredibili. Tant'è che, ad una certa, senza fare spoiler, c'è Deku che sta accadendo, qualcuno lo afferra, io mi son girato verso il mio amico e ho detto, questo è Banjo, che è per l'appunto uno all'interno delle vestigia, che era poi il possessore del Black Whip, che abbiamo imparato a vedere nella quinta stagione. Quindi, il primo motivo è semplicemente questo. Il film ha avuto un impatto incredibile sulla quinta stagione, ma, cioè, per cosa? Cioè, c'è stata anche un'inversione di archi narrativi. Ma poi, cioè, basta Bonalè? Il film avrebbe comunque sia dovuto prendere le fila della, per appunto, quinta stagione e riportarle un minimo all'interno. Ma questo primo motivo si lega al secondo, perché io prima ho parlato di buchi, e c'è un buco incredibile. La loro assenza, infatti, si percepisce in una scena. C'è Deku, senza fare spoiler, che usa il one for all, e ha, cioè, non hanno nemmeno usato, sapete, la classica scena che state vedendo a schermo, con il passaggio di mano in mano. Hanno messo un fermo immagine di All Might, creando quasi una situazione surreale, comica. Quindi la loro assenza influenza, quindi non solo ciò che poteva dare il film, ma influenza le scene stesse. Cioè, una scena è stata completamente distrutta, perché anziché inserire una semplicissima scena di un passaggio di mano, hanno inserito un primo piano di All Might, creando comicità in un momento dove la comicità doveva essere assente. Cioè, capite il punto qual è? Mi fate una quinta season incentrata, recuperatevi il video di lunedì, sui cambiamenti dell'all for one, sulle vestigia, e poi nel film non solo, non c'è traccia delle vestigia, ma la loro assenza danneggia il film. Il film influenza la quinta serie, genera un cambiamento, un'inversione di archi narrativi, e poi non prende neanche spunto per il futuro. Cioè, questo film poteva veramente anche essere un trampolino di lancio per la sesta stagione, per gli eventi futuri. E invece no, invece no, questo film si classifica praticamente come un film monotono, anime, normalissimo, dedicato a Mairo Accademia. Poteva essere veramente un trampolino di lancio, poteva eccellere, se avesse inserito le vestigia. Veramente, cioè, lo so, sembra magari una critica, un pochettino, sottile, uno dicessimo, il film è bello, il film è bellissimo, il film è spettacolare, volevamo urlare, ve l'ho detto prima, ci sono delle scene, il comparto tecnico è incredibile, però raga, cioè, alla fine bisogna dire anche le cose come stanno. Che il film, sì, è bello, ma alla fine non ti lascia nulla, non ti dici, non ti lascia neanche la pulce nell'orecchio per dire wow, ma è accaduto questo, quindi chissà poi da adesso in poi Deku cosa sarà capace di fare. Poteva essere un trampolino di lancio, poteva collocarsi tra l'olimpo dei film anime, invece no. Purtroppo il punto è questo, e quindi bisogna accettarlo, nonostante il film poi alla fine sia pure canonico, perché l'abbiamo visto nel episodio filler, nella per l'appunto quinta stagione, quindi cioè veramente, io non capisco, poi ci sono anche comunque sia gli eroi che presenti nel film, che stiamo vedendo nel manga, boh, poteva veramente dar di più, invece è diventato un film monotono e quasi anonimo. Peccato dunque, perché le potenzialità per eccellere le aveva tutte, ma comunque sia, sono sicuro ragazzi, che apprezzerete il film in generale, perché veramente tutte quelle scene d'azione, la tematica dell'amicizia, anche qui vediamo un approfondimento del rapporto tra Deku, Bakugue e Shoto, quindi anche su questo lato qui, vi piacerà, tipo, veramente, veramente tanto, quindi, non fatevi influenzare da questi due punti negativi, andate a vedere il film, e poi tornate qui a scrivermi la vostra. Io per dovere di, insomma, di onestà, ecco, cioè, vi ho dovuto dire le cose come stanno. Il film poteva eccellere, invece non l'ha fatto. Detto ciò, io spero che questa recensione non sia venuta troppo lunga, ma soprattutto che vi sia piaciuta. Aspetta i vostri commenti, raga, e niente, siccome penso che sia durato già troppo, noi ci vediamo come sempre alla prossima. Recuperate il video di lunedì. Grazie. 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 Grazie.